Finalmente, siete in ritardo di esattamente 22 minuti e 18 secondi. Questo era un villaggio turistico, ma è stato abbandonato. Il motivo non lo so. Ma il nostro bungalow non è ridotto così, vero? No, 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 no. Il nostro è da un'altra parte. È questo? Sì. Ma io lì dentro non ci dormo. È una topaia. Andiamo direttamente a Grotta Marea. Ogni volta che passavamo di lì ci spaventavamo tantissimo e scappavamo. C'è qualcuno lì sotto. Parraggio! Parraggio! Mai lasciare organizzare Mattia.